Siamo arrivati in diretta dallo stand della pallanea, siamo qua all'ultimo a questo anno del 2012 per queste gare che sono qui. Oltimatamente abbiamo provato i ragazzi gentili, cazzo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Viva lì che rimettiamo lì! Allora sì! Fate un bel gioco! Fate un bel gioco! Eccoci qua, il stand della pallanea, questo qua è uno degli stand dell'Octoberfest, lei mi sta cacciando perché non si può bere, non si può fare in piedi, insomma la vita è dura qua anche all'Octoberfest, c'è la crisi e insomma. Comunque questo è uno degli stand principali dove si può bere, mangiare, sbattere i ragazzi e qualcuno vomita anche. Grazie a voi! Questa qua è tipica tedesca, ma almeno questo tavolo qua è un po' abbastanza pieno di patata, tavoli con più patata, tavoli con meno patata, ma patata ce n'è. Grazie a tutti! Voglio farmi notare che ci sono! Allora, arrivati! Allora, allora, scossa, allora, 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 allora! Allora, ciao!